Con la diretta oggi ancora parliamo della linea Cell Plus, la linea che è in promozione, la promozione vi ricordo sta scadendo, scade sabato, quindi solamente oggi e domani avete ancora due giorni per poter prenotare la vostra promo. In cosa consiste? Con l'acquisto di una confezione formato maxi del prodotto booster anticellulite avete un secondo prodotto a vostra scelta completamente in regalo. Cosa potete scegliere? Tutti i prodotti della linea Cell Plus, tutti i prodotti che vi piacciono, solitamente hanno un valore che arrivano fino a 30 euro potete scegliere proprio quello che volete. Si può partire con lo scrub, sia il salino piuttosto che il fango scrub più veloce da usare sotto la doccia, la crema fredda tonificante invece rassodante che aiuta anche le gambe gonfie, vene, capillari, piuttosto che l'olio se vi piace massaggiare un pochino di più e avete più tempo per coccolarvi, per prendervi cura di voi, la crema per il seno. Come fare a scegliere il prodotto giusto? Ecco, vi ricordo sempre il regalo, un omaggio per voi, la ruota che vi aiuta proprio a scegliere qual è il prodotto adatto ad ogni esigenza. Disponibile ancora in negozio qualche pezzo con i relativi campioncini della linea, passate in negozio a ritirarla così potete proprio provare tutte le creme disponibili della linea Cell Plus. Il prodotto in promozione, ve l'ho già raccontato, il booster è certificato, funziona, riduce del 35%, la diposità migliora il microcircolo, migliora la pelle. In tantissimi, l'avete già provato, mi state scrivendo anche tanti messaggi dicendo fantastico, due giorni, tre giorni, cambia la pelle, si sente proprio subito l'effetto. All'inizio, vi avviso, quando lo mettete la prima volta, si ha questa sensazione di caldo freddo per una ventina di minuti, ma è normale, si sente proprio la pelle che è formicola, che pizzica, perché comunque il prodotto funziona e sta lavorando proprio a livello proprio adiposità. Quindi funziona e si vede in due o tre giorni, veramente cambia proprio la pelle. Il formato maxi è stato proprio fatto, il formato maxi, perché è uno dei prodotti più amati, 35 euro nel formato classico, normale da 200 ml, quest'anno è nato il mega formato da 500 ml, a 50 euro. Con il booster formato maxi potete scegliere un secondo prodotto all'interno di tutta la linea Cell Plus, a vostra scelta, completamente in regalo. Quindi è una promo imperdibile che dura solo fino a sabato, quindi oggi e domani. Se non riuscite a passare in negozio, scriveteci, scriveteci su WhatsApp che ve lo mettiamo da parte, perché dobbiamo comunicare il numero di pezzi a cui abbiamo aderito con la promo, alla rappresentante. Quindi solamente fino a sabato avete la possibilità di approfittare dell'offerta. Se non riuscite a passare, scriveteci su WhatsApp che ve lo mettiamo da parte, ve lo prenotiamo e ve lo teniamo da parte. Questo appunto è fantastico e poi potete scegliere il secondo prodotto a vostra scelta, quello che volete proprio all'interno della promo. E per aiutarvi, ecco il disco meraviglioso, comodissimo, che vi dice che vogliamo tonificare il seno. Ne ho parlato nella scorsa diretta, la crema rassodante per il seno, la crema pancia ai fianchi, la crema per rassodante invece per microcircolo. Quindi possiamo proprio andare a scegliere tutto il secondo prodotto in omaggio. Visto che la cellulite, ve lo dico sempre, a me piace essere sincera e onesta e dirvi le cose come sono, la cellulite in una settimana, in due settimane non si sconfigge, ci vuole un lavoro con un pochino più di impegno e un po' di costanza. Ma veramente applicando la crema una volta al giorno la pelle cambia, si vede proprio la differenza. Quindi siamo in perfetto orario, in perfetto tempismo per arrivare pronti alla prova costume, quindi per migliorare proprio la pelle e la tonicità, con un pochino di costanza. Veramente a questo punto vale la pena fare proprio scorta. Quindi sfruttate la promo con il formato maxi e scegliete il secondo prodotto da poter abbinare per preparare la pelle e quindi fare uno scrub, oppure il drenante salino da sfruttare magari quando cominciano le giornate più calde. Visto che domani sono previsti anche 18-19 gradi, la primavera sta iniziando, prepariamoci già all'arrivo appunto del caldo della primavera. Se avete altre domande, richieste, volete conoscere qual è il miglior prodotto per voi, scriveteci, scriveteci su Whatsapp, vi rispondiamo, ci date le indicazioni, mi piace, ho tempo, mi piace massaggiare, mi piace, oppure sono di fretta, voglio una cosa più veloce, il gel, se avete più tempo, l'olio, quindi oppure ho le gambe che solitamente si gonfiano, ho i capillari, vi diamo un'indicazione, seguendo anche proprio i consigli che troviamo proprio sulla ruota della Cell Plus per indicarvi qual è il prodotto che scalda, che non scalda, che lavora proprio sul microcircolo, che lavora più sulla liposità, che lavora più sulla ritenzione idrica, perché effettivamente ogni donna, ogni forma è proprio particolare, quindi c'è la crema più specifica per la pancia, ma potete scegliere proprio quella che vi piace di più proprio come secondo prodotto in omaggio. Tenete conto che l'olio e le creme vengono 30 euro, sabato termina la promozione e quindi rimangono tutti i prodotti della linea, ma non li avete più in omaggio, quindi 30 euro, se sfruttate la promo, adesso potete prenderla proprio come prodotto in omaggio con l'acquisto del booster grande. Inoltre, piccolo spoiler, ho appena mandato, l'inviato la mail con una fantastica novità per Pasqua, quindi controllate la mail, andate a vedere, andate a sbirciare, perché abbiamo una fantastica novità, proprio come idee regalo per Pasqua. Controllate sulla mail, oppure controllate lo stato di Whatsapp, che adesso condivido anche lì, se non l'avete ricevuta, se non lo trovate sullo stato di Whatsapp, scriveteci, che ve lo invio, ve lo inoltre, ma tenete controllata la mail e tenete controllato lo stato di Whatsapp, perché abbiamo una bellissima novità, proprio come idea regalo di Pasqua, che c'entra con la linea Pietre e c'entra con i regali di Pasqua. Intanto vi ringrazio, vi saluto, lunedì, salto a diretta perché ho un corso, sono via, ci vediamo settimana prossima, comunque vi continuerò a scrivere nelle storie, il negozio è aperto perché rimane Marco, quindi trovate Marco lunedì mattina, comunque approfittate che fino oggi pomeriggio domani ci sono, tutto weekend ci sono, proprio devo andare a un corso lunedì, sarà l'unica mezza giornata in cui trovate Marco in negozio, ma il negozio comunque è aperto e operativo. Controllate la mail e controllate Whatsapp che vi raccontiamo questa meravigliosa novità. Intanto vi saluto, vi ringrazio e ciao, buon fine settimana a tutti, ciao!